Dopo l'abbattimento di alcuni alberi malati e pericolanti, soprattutto nel quartiere di Fuorigrotta e del Vomero, il Comune di Napoli mette a disposizione 5 milioni di euro per il verde pubblico. Sono diverse le azioni che saranno messe in campo per restituire alla cittadinanza, alla città, alberi, giardini e parchi. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e ordinaria, le potature di circa 40 mila alberi di fusto alto, l'amministrazione comunale ha stanziato un milione 100 mila euro per attività da realizzarsi fino al 2015, con appalti esterni per migliorare l'utilizzo del personale comunale nel settore della potatura. Risorse pari a 300 mila euro sono state inoltre previste per avviare il censimento filo sanitario di tutte le essenze arboree cittadine, con l'obiettivo di acquistare una base conoscitiva per definire lo stato attuale delle alberature allo scopo di programmare l'attività di gestione, mentre 120 mila euro sono stati assegnati alla lotta antiparassitaria. In prima linea è sceso il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che in conferenza stampa ha rivelato alla stampa di essere un sindaco dal pollice verde a cui piacciono gli alberi e piace anche piantarli. È una passione che ho e che non riesco più a coltivare da tempo, lo facevo prima. Mi piace invece l'idea che abbiamo stanziato in un momento di difficoltà molte risorse per nuovi alberi nella nostra città, per sistemare meglio parchi e giardini, per le potature, per realizzare più aree verdi, più irrigazioni, più giochi per bambini. Poi starà tutta la città a mantenerli, perché poi la rabbia certe volte è impiegare risorse, sistemare aree che poi vengono vandalizzate. Quindi anche l'affidamento di più aree coinvolge le associazioni, coinvolge il territorio, le municipalità. Sono tante risorse, vanno spese bene, presto. E credo che sia anche un messaggio forte, una città che è sempre più verde, quindi con un'area più respirabile e più socialità per tutti.